L'artiglieria e gli attacchi aerei russi minacciano di far precipitare le sorti del conflitto in Donbass. Le autorità ucraine affermano di avere urgente bisogno di avanzati sistemi missilistici mobili a lancio multiplo di fabbricazione statunitense per fermare l'avanzata russa a Lugansk e Donetsk. Questi razzi sarebbero in grado di colpire le postazioni di tiro russe, le basi militari, le piste aeree e le linee di rifornimento fino a 300 km di distanza, come ha ricordato il presidente Zelensky. Ogni giorno lavoriamo per rafforzare la nostra difesa, si tratta in primo luogo della fornitura di armi. Ogni giorno ci avviciniamo alla situazione in cui il nostro esercito prevarrà sugli invasori dal punto di vista tecnologico e della forza d'urto. Naturalmente molto dipende dai partner, dalla loro disponibilità a fornire all'Ucraina tutto il necessario per proteggere la libertà e attendo con ansia buone notizie per la prossima settimana. L'altra grande crisi poi è quella agricola ed alimentare. A nord del paese resta troppo pericoloso avventurarsi nei terreni disseminati di proiettili d'artiglieria inesplosi o troppo vicini alla linea del fronte, mentre le attrezzature e i magazzini di stoccaggio sono in gran parte distrutti. La crescente crisi alimentare è stata aggravata dall'impossibilità dell'Ucraina di spedire milioni di tonnellate di grano e altri prodotti dell'agricoltura. Il blocco dei porti da parte della Russia ha interrotto gran parte di questo flusso, mettendo in pericolo le forniture alimentari mondiali. Molti di questi porti ora sono anche pesantemente minati. Nonostante ciò, una nave di Open Arms, che trasportava 24 tonnellate di cibo, ha traccato nella città di Ismail, nella regione di Odessa. Il porto di Mariupol ha ripreso le operazioni sabato mattina, dopo che le forze russe hanno dichiarato di aver terminato lo sgombero delle mine dalle acque a largo della città.